Bella coppia di uomini e donne, Lavini e Alessio, sono sempre in giro per le vacanze e soprattutto per passare più tempo assieme prima di una convivenza. In questi giorni i due ragazzi si trovano in una delle più belle isole, Capri, a godersi il sole di giorno e dolcissime cene romantiche e balli scatenati la notte. Infatti dai numerosissimi video postati su Instagram si può vedere come ragazzi affiatatissimi si divertono nella taverna Anime Core, a Capri, ballano e cantano spensierati e innamorati come non mai. E' sicuramente una coppia piena d'amore ed è una gioia vederli. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!